oi bella vienetenna a Positano si perché mercoledì 16 ottobre alle ore 18 qui a Positano nella sala consigliare del comune incontro pubblico con Amedeo Gulella per chiacchierare per stare un po' assieme con la libreria Ubic di Vichequenze e sì mi sono avviato un po' prima perché poi alla fine insomma un po' di vacanza ecco mercoledì 16 ottobre ore 18 oi bella vienetenna a Positano